Sono tutti fatti con la stessa modella? Sì. È piuttosto una bella ragazza, non trova? Che peccato, così bella fuori e tanto marcia dentro. La conosci? Eh, direi di sì. Come non avrei potuto. Lo sanno che il mio povero marito è morto per colpa sua. Così hanno detto? Lo so quello che hanno detto, le solite porcherie. E magari sarà anche andata così. Ma quello avrebbe potuto succedere con qualsiasi altra donna. No, io non intendevo questo. Volevo dire che mio marito è morto per il crepacuore che lei gli ha fatto venire. Lui mi parlava di quella ragazza. Mi diceva sempre, quella sarà la mia morte. Se lo sentiva, nelle ossa. Ma è davvero così cattiva? Con mio marito lo era. Magari con lei sarà anche un angelo. E che cosa c'entro io? Caro professore... Cosa ne pensa di questo quadro? Lo guardi bene. Lo sa chi è l'uomo che sta a quattro zampe? Proprio mio marito. Lo facevano davvero, sa? Come i ragazzini, ai giardinetti. Solo che loro due non erano dei ragazzini. Se questo quadro le piace, io glielo vendo, professore. Perché diavolo dovrei comprarlo? Per ricordo di quella ragazza. Perché avrei bisogno di un ricordo? Il perché lei lo sa meglio di me. Non è così? Non è proprio niente per me quella ragazza. È molto facile a dirsi, professore. Non è proprio niente per me.